La Confcommercio Pesaro Urbino Marche Nord, anche a nome dell'amministrazione comunale di Pergola e dell'azienda Capalazzo, ci invita all'inaugurazione ufficiale della mostra Imperatori Romani in bronzo. La mostra si svolge presso il Museo dei Bronzi Dorati e della città di Pergola ed è ad opera di un artista olandese, Will Vanderland. Siamo vicini ad una data importante che è quella che ricorda il ritrovamento dei bronzi dorati che abbiamo la fortuna di custodire qui nel nostro museo. Sono ben 75 anni trascorsi da allora, i bronzi hanno subito varie vicissitudini, la nostra popolazione ha sempre lottato molto affinché potessero rimanere a Pergola. Adesso è così e ci sembrava l'occasione giusta da cogliere, non potevamo non coglierla, per evidenziarli maggiormente, per invitare maggiormente le persone a venirci a trovare, e venire a visitare il museo. Quindi questa mostra è sicuramente un'occasione in più per visitare il nostro museo. La mostra verrà inaugurata sabato 26, proprio in occasione della data del 75esimo del ritrovamento appunto, e rimarrà allestita fino al mese di ottobre. Quindi ci saranno molte occasioni, un periodo molto lungo per poterla visitare. Il nostro museo nei mesi estivi sarà aperto tutti i giorni. Molto bella da visitare la sala immersiva appunto che custodisce i bronzi dorati. In seguito alle limitazioni dovute al Covid ci sono dei numeri, ecco così, da rispettare per quanto riguarda le entrate e la visione all'interno per la proiezione. Quindi io invito tutti comunque a consultare il nostro sito del museo e a contattare anche il personale che qui lavora in modo da organizzarsi per la visita nella maniera migliore. Da diversi anni gestiamo in convenzione con il comune il museo dei bronzi dorati e da alcuni anni la città di Pergola fa parte del nostro itinerario della bellezza. Un itinerario della bellezza che quest'anno mette insieme in rete 13 comuni, ma all'interno di questo progetto di itinerario della bellezza noi estraiamo periodicamente delle pillole, dei percorsi da proporre ai turisti. Uno di questi è il itinerario archeologico, dove noi intendiamo e cerchiamo di valorizzare il percorso lungo la via Flaminia, quindi da Cagli fino a Pesaro, passando appunto per Pergola, per Fossombrone, per Saltara, con il salone dei mosaici di Saltara, Fano e Pesaro. Quindi Pergola è una parte fondamentale, anche perché il museo dei bronzi dorati, voglio ricordarlo, è unico al mondo. Non c'è un altro gruppo equestre di epoca romana di bronzo dorato così in nessuna parte del mondo. È un po' come se i bronzi dorati fossero gli ambasciatori delle marche nel mondo.